l'uomo più intelligente del mondo. Ebbene sì, esiste davvero, ma non si chiama Sheldon Cooper. Il suo nome è Terence Tao, matematico australiano con un QI quasi incalcolabile, così intelligente da risultare alieno fra gli alieni. Comincia a leggere a due anni e inizia subito a insegnare a bambini più grandi di lui. A sette dà già ripetizioni a studenti delle scuole superiori. A nove anni segue corsi universitari di matematica avanzata, dieci vince le prime gare di matematica. Influenza genitoriale? Non solo. È anche opera di Terry che ha imparato secondo lui le basi della matematica guardando Sesame Street. Terence è una persona come tante, tranquilla, capace di trasmettere chiaramente le sue conoscenze e con una passione incredibile per l'universo nerd. A un primo sguardo, incrociato a un Comic-Con, potrebbe sembrare un nerd qualunque, ma in realtà è...